Hai problemi a chiudere le porte del tuo frigorifero side by side? Ecco alcune cose che puoi fare da solo per risolvere questo problema. Innanzitutto, controlla se una confezione di cibo sta bloccando la chiusura della porta. Se questo è il caso, riorganizza semplicemente le confezioni di cibo in modo che la porta possa chiudersi completamente. Anche un ripiano o un vano portaoggetti fuori posto possono ostacolare la chiusura della porta. Rimetti tutti gli oggetti messi male nella posizione corretta. Inoltre, controlla se ci sono sostanze estranee sulla guarnizione di gomma. Sostanze estranee lasciate sulla guarnizione in gomma possono ostacolare la capacità della guarnizione di aderire. Al frigorifero basta pulire tutti i materiali estranei dalla guarnizione di gomma con un asciugamano caldo e umido. La porta dovrebbe chiudersi correttamente. Tuttavia, se la guarnizione in gomma stessa è danneggiata, chiamare il centro di assistenza LG Electronics per ulteriore assistenza. Il frigorifero deve essere leggermente inclinato verso il retro, in modo che le porte si chiudano facilmente. Se il frigorifero è inclinato in avanti, la porta potrebbe riaprirsi o sembrare molto pesante. In tal caso, solleva entrambe le gambe di livellamento allo stesso modo. Se non sei sicuro di come fare, guarda il nostro video su come livellare il frigorifero. Se hai ancora difficoltà a chiudere una porta, controlla l'allineamento della porta. Controllare se c'è una differenza di altezza tra le due porte. L'allineamento della porta implica la regolazione del dado di regolazione sul fondo di entrambe le porte. Se non sei sicuro di come fare, guarda il nostro video su come allineare le porte del frigorifero. E infine, le porte potrebbero essere state rimosse durante l'installazione, ma non reinstallate correttamente. In questo caso, sarà necessario rimuovere e reinstallare nuovamente le porte. Se si reinstalla la porta da soli, si corre il rischio di danni all'unità o di autolesionismo. Ti consigliamo vivamente di chiamare il tuo centro di assistenza LG per reinstallare le porte. Se desideri procedere da solo, sii prudente e fai riferimento al nostro video su come rimuovere e assemblare le porte del frigorifero. In caso di ulteriori domande o si necessita di ulteriore assistenza, contatta il tuo centro di assistenza LG Electronics. Grazie per aver utilizzato i frigoriferi LG. Grazie per aver guardato il video.